Ben trovati, nuovo appuntamento con Orobie Extra, eccezionalmente sostituisco Cristina Paolato, non temete tornerà al prossimo appuntamento, saluto nostro ospite Simone Ciocca, ben trovato, grazie per essere con noi, una laurea in scienze biologiche esatto, esperto di ambiente, di natura, di territorio, di scienze ovviamente, anche professore di mestiere che cura sulla nostra rivista, sul nostro mensile, un'interessantissima rubrica. In particolare la rubrica Curiosando nel Verde, esatto. Ecco che incuriosisce molto, veramente molto interessante. Per il mese di maggio è anche l'autore del servizio sul Maggio Ciondolo, che è pubblicato sul nostro mensile in edicola il mese di maggio e allora è tempo veramente di Maggio Ciondolo questo? Assolutamente sì, direi che maggio rientra proprio nel mese di questa magnifica pianta, proprio perché è il mese in cui le fioriture si fanno più evidenti e ci deliziano con i loro profumi e i loro colori. Allora nel tuo bel servizio su Orobbie, ne dai una descrizione poetica all'inizio del pezzo? Sì, diciamo che... Ispira la poesia anche il Maggio Ciondolo? Sicuramente ispira la poesia, infatti è ripresa alla fine anche grazie a un poeta inglese che all'interno di un suo componimento ha inserito proprio il Maggio Ciondolo, la poesia si chiama Sister Poems e l'ha inserito proprio perché è assolutamente una pianta che richiama solarità, richiama gioia ed è la stessa sensazione che noi proviamo nel momento in cui si va in montagna, per cui in realtà quello che nasce dalla visione del Maggio Ciondolo sono proprio sentimenti assolutamente piacevoli. Ecco, ripercorriamo un po', andiamo un po' in fila seguendo anche il testo che hai scritto su Orobbie. Tu dici che si annuncia con un profumo mielato. Sì, esatto, diciamo che il Maggio Ciondolo è parente della Robinia, quindi è un alberello il cui fiore effettivamente richiama quello della Robinia e a differenza però della Robinia ha una profumazione più tenue, più attenuata, ma più dolce, non così fresca come quella della Robinia. La caratteristica principale è questo suo colore intenso anche, l'abbiamo già detto però. La solarità e quindi richiamare questa brillantezza è assolutamente affina a quella dei raggi del sole potremmo dire, quindi più che un colore dorato e quindi leggermente scuro e tendente all'arancia è proprio un giallo quasi puro oserei dire luminoso. Senti, ai margini dei boschi lo troviamo ma qual è il suo ambiente ideale? Allora, qui c'è un pochino da distinguere perché per quanto riguarda il Maggio Ciondolo in Italia troviamo due specie fondamentalmente, il Maggio Ciondolo comune e il Maggio Ciondolo di montagna, ho detto appunto anche Maggio Ciondolo alpino, per cui dal punto di vista ambientale si differenziano leggermente soprattutto in base all'altitudine alla quale possiamo trovarli. Il Maggio Ciondolo comune si trova ad altitudini più basse, quindi dal livello del mare fino agli 800 metri e quello alpino invece si trova dai 500 metri fino ai 1600 metri, quindi proprio una specie prettamente alpina. Però come dicevo, ai margini del bosco oppure anche così, qua e là indistintamente? Allora, diciamo che prettamente è una specie che occupa i nuovi spazi, i margini dei boschi, è una specie pioniera possiamo dire, quindi occupa proprio i margini delle boscaglie, soprattutto il Maggio Ciondolo alpino. Quindi insomma rallegra chi va in montagna in questo periodo. Esattamente, diciamo che risolleva un pochino dalle fatiche dell'ascesa. Dicevi appunto, non una sola specie, ma in cosa si differenziano in particolare? Allora, le differenze non sono molto evidenti tra le due specie. Diciamo che quelle maggiormente caratteristiche sono la pelosità sia delle foglie che dei giovani rami che è maggiore nel Maggio Ciondolo comune. Mentre nel Maggio Ciondolo montano queste parti della pianta sono così, si dicono glabre, cioè sono prive di peli. Ci racconti un po' di questi giardini affascinanti che ci sono in giro per l'Europa? Sì, assolutamente. Nel pezzo, ricordiamolo, così invitiamo anche a comprare e andare a acquistare l'Europa. Sicuramente. Nel pezzo, parli di uno in Gran Bretagna che deve essere qualcosa di incredibile. Esatto, in Galles si chiamano Bodnant Gardens. Essendo il Maggio Ciondolo una specie che produce dei grappoli, un po' come il glicine e la robina appunto, si presta proprio a delle costruzioni che nei giardini hanno un effetto particolarmente gradevole, particolarmente impattante. In Galles hanno costruito proprio questo tunnel lungo 55 metri dove dei giardinieri espertissimi fanno in modo che nel mese di maggio la fioritura sia qualcosa di spettacolare. Per cui si vedono dei grappi pendenti in questo tunnel giallo e luminoso come l'oro e quindi davvero mozzafiato. Però in compenso noi abbiamo dei giardini naturali sulle nostre montagne quasi altrettanto affascinanti, anche se però forse il più interessante è in Canton Ticino e non in Lombardia. Esattamente, diciamo che anche sulle nostre robie in realtà è bello scoprire salendo in alcuni rifugi alcuni comparti, alcune viste che ci regalano davvero delle viste con questi maggio ciondoli appunto che creano una bordura di fianco ai boschi e sono davvero meravigliosi. Però dicevamo il Canton Ticino. Nel Canton Ticino c'è un bosco di maggio ciondoli davvero molto speciale. è detto addirittura bosco sacro. Quindi pensate voi che è un bosco che è nato, le loro origini risalgono addirittura agli inizi del 1800. Quindi davvero un bosco oltre che sacro anche storico. Dovessi però suggerire un luogo nella nostra provincia dove andare o in Lombardia? Un bel maggio ciondolo, dei bei maggio ciondoli? Il maggio ciondolo è un bel sanguigno e molte valli che ci sono a quell'altezza nelle nostre orobie, indipendentemente proprio dalla natura del terreno, visto che per il maggio ciondolo alpino non è importante il substrato, sono queste le mete che consiglierei. È vero che è denominato in tanti modi diversi? Sì, diciamo che ha ispirato anche i nomi comuni in varie parti d'Italia. Il maggio ciondolo è chiamato anche avorniello, è chiamato cantamaggio, è chiamato falso ebano anche in relazione al suo legno. Infatti il suo legno è molto caratteristico. Se noi osserviamo la sezione troviamo che la parte centrale è molto scura e richiama proprio l'ebano e quindi il nome richiama appunto la colorazione di questo legno particolare. Tu fai delle bellissime illustrazioni su orobie all'interno della tua rubrica, in questo caso all'interno del servizio dedicato al maggio ciondolo. Su cosa basi poi il tuo lavoro nel fare queste illustrazioni che sono sempre veramente molto belle? Allora, in questo caso è stata molto importante la composizione, per cui il fatto di avere una specie, una pianta così ricca di caratteristiche sicuramente permette di osservarne e rappresentarne i vari aspetti. E allo stesso tempo per fare disegni l'ideale è avere poi un soggetto reale, per cui siccome ovviamente la rubrica deve essere preparata prima, mi sono documentato dal punto di vista fotografico e anche con alcuni reperti reali per disegnare appunto le varie parti del maggio ciondolo. Una cosa che mi ha incuriosito molto, poi andiamo a chiudere, ma è anche tossico? È anche tossico, infatti nei giardini purtroppo… Bello ma tossico. Bello ma tossico, esatto, è un binomio un po' particolare, diciamo che il maggio ciondolo molto spesso non si trova nei giardini, nonostante la sua bellezza, è dovuto infatti a questa sua caratteristica e quindi è temuto un pochino dai giardinieri perché potenzialmente i semi in particolare potrebbero essere ingeriti. Ecco, specificiamo i semi e non… Sì, tutta la pianta è velenosa, però in particolare i semi hanno una concentrazione di questo alcaloide tossico e quindi sono soggetti a essere mangiati incautamente magari dai bambini o anche dagli animali domestici, quindi preventivamente si preferisce non inserire. Però chiudiamo con un'altra nota positiva, resta bellissimo. Resta bellissimo, sicuramente una pianta con le opportune accortezze il consiglio è quello di inserirlo comunque in giardino nonostante sia di difficile coltivazione molto spesso. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, di questo appuntamento con Orobie Extra. Ringrazio tantissimo Simone Ciocca che ci ha incuriositi quindi tutti ad acquistare Orobie in edicola al mese di maggio, in particolare ci sarà appunto il servizio di Simone dedicato al maggio ciondolo. Io vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento. Alla prossima puntata. Grazie a tutti.